sport e piceno game presenta l'intervista di pietro il premio voci animate la sicuramente la domanda ormai uno standard la più complessa lo più semplice chi è james garof ha 48 anni non l'ho capito neanche diciamo che mi piace fare tante cose principalmente il lavoro principale fare l'informatico per una casa editrice questo è il mio lavoro principale diciamo poi le mie passioni che sono tante mi portano poi a espandere un po quello che faccio e soprattutto aiutare mia moglie che lavora nel campo dell'organizzazione eventi e quindi ci ritroviamo fare delle cose anche insieme nei weekend quando lei insomma lavora in questo questo frangente quindi non voglio definirmi uno scrittore perché non lo faccio di professione ma ho scritto diversi romanzi e mi piace farlo infatti ne sto scrivendo altri due ma non sono uno scrittore ripeto anche se prima della pandemia anzi durante la pandemia è uscito un libro che si chiama voci animate ed è un libro dedicato al mondo del doppiaggio dei cartoni animati anni 70 80 90 quindi è il mio primo libro non on demand ma veramente pubblicato da teaser lab che una casa editrice del milanese e quindi ho fatto questo lavoro insieme al mio amico fabrizio pancirolli che un è una giornalista sempre lombardo parla un giornalista sportivo e insieme ci siamo conosciuti a un evento dedicato al mondo del doppiaggio e abbiamo deciso di scrivere insieme questo libro sui cartoni animati insomma quelli che ci hanno cresciuto ed è stata una bella esperienza perché durante la pandemia nel male molti doppiatori hanno avuto un grande una grande disponibilità ci hanno dato quindi erano tutti a casa e quindi abbiamo siamo stati fortunati da questo punto di vista che abbiamo praticamente intervistato tutti i più grandi e sono dentro questo libro che sono invito tutti gli appassionati soprattutto di doppiaggi di cartoni animati di andarlo a cercare allora abbiamo facciamo il repso conto scrittori per passione musicista conduttore radiofonico allora hai detto due cose che non faccio che non faccio più perché insomma dedicarsi a troppe cose contemporaneamente non fa bene né a me né a me neanche a quello che faccio quindi per esempio musicista in realtà ho fatto il cantante in una band i gremlins anzi li saluto e ne voglio parlare perché loro esistono ancora e fanno ancora diverse date è una band non dico era è una band dedicata alle colonne sonore dei film e dei telefilm ed è una track list molto divertente ed è un vero e proprio show anche perché si va in scena con i costumi diciamo da cosplay quindi ognuno di noi si veste come uno dei personaggi dei film dei quali suoniamo la colonna sonora per esempio io andavo in scena vestito da marty mcfly di ritorno al futuro il bassista massimo barbera che si vestiva doc brown sempre di ritorno al futuro fabrizio cappellozza che il chitarrista aveva la tuta di top gun davide che suonava tastiera e si vestiva anche lui lui si vestiva da ghostbusters e poi roberto gallico alla batteria che indossava sempre magliette o pantaloncini di rocky quindi adesso la band è un po cambiata non ci sono più che canto c'è roberto che un morello che saluto e c'è anche un altro batterista non ricordo il nome perché nuovo e non lo conosco quindi è cambiata sempre per motivazioni covi della formazione quindi adesso loro continuano a fare delle date continuano a suonare e presto andrò anche a vederli da spettatore mi farà molto piacere e poi invece mi dicevi tu dici musicista cos'è il conduttore aerofonico ma aspetta a questo punto il conduttore aerofonico abbiamo sospeso però ci rimane il direttore artistico io sono direttore artistico di voci animate che è la cosa che sta funzionando tantissimo sulla quale sto dedicando il 90 per cento se non tutto il mio tempo libero ho fatto ci tengo a citarlo e a nominarli perché insomma ho avuto la possibilità di fare lo speaker radiofonico per due anni una cosa che non avevo mai fatto anche perché come puoi sentire io mi mangio un po le parole perché parlo molto velocemente quindi non sono proprio una speaker radiofonico di quelli ferrati ecco non sono del mestiere però mi ha aiutato molto perché quando ci penso come in questo momento modulo meglio le parole e parlo anche insomma è servito a me visto che presento sul palco poi se ne parliamo di voci di mate a esprimermi un po meglio a farmi capire un po meglio vogliono salutare pianeta b web radio che è la radio che mi ha accolto saluto il capitano pianeta qui pianeta b web radio punto it è una radio che trasmette 24 ore su 24 le 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 sigle dei cartoni animati e le bgm anche quindi le colonne sonore ed è gestita in maniera spettacolare quindi invito tutti quanti gli appassionati andare ad ascoltare voci animate insomma voci animate è nato io vado avanti e se tu non mi fermi io io davanti a una scheggia io ho iniziato nel 2015 ho partecipato a una manifestazione ero nell'organizzazione non la nomino per correttezza nella quale non mi sono trovato molto bene più che altro ho invitato i doppiatori ospiti di un mio festival horror avevo portato sul palco un festival di cinema indipendente horror e avevo messo in giuria sergio stivaletti che era curatore degli effetti speciali d'arri argento e avevo pensato di portare in giuria dei doppiatori perché loro comunque sono degli attori vengono vengono anche chiamati doppi attori proprio perché per doppiare devi prima saper recitare quindi sono in primis dei grandi attori poi dopo ovviamente con la loro voce ci danno la magia del doppiaggio per me è una magia la chiamo così fu allora che a causa di molti problemi avuti nella gestione dell'ospite non voglio entrare nei particolari ma diciamo che l'ospite quando è appunto ospite di un evento di una fiera si aspetta di ricevere un certo trattamento che è basilare io lo trovo basilare ma alcuni organizzatori di fiere di eventi alcuni non sanno che cosa vuol dire la gestione dell'ospite e queste cose elementari e basilari le ignorano o fanno finta di ignorarle per il proprio tornaconto e questo va a discapito non solo dell'ospite ma anche dell'evento a cui vengono invitati perché se io tratto male un ospite la voce gira in maniera molto più veloce che se viene se viene trattato bene e la voce brutta che gira che viene trattato male fa sì che l'anno successivo magari l'ospite che tu vuoi invitare non viene perché ha sentito che lì non viene trattato come si deve quindi da tutto quello che è capitato e mia moglie ci venne un'idea perché non creiamo un gruppo che si occupa di fare da tramite tra l'ospite e l'evento che lui invita in maniera da evitare tutte le seccature e comunque accontentare l'ospite nelle sue richieste che possono essere di ogni genere ma l'ospite è come il cliente cioè il cliente ha sempre ragione e se tu gli vuoi bene se tu lo vuoi far tornare lo devi trattare in un certo modo quindi in acqua e voce animate come gruppo appunto io lo chiamo brand brand perché soprattutto in questo periodo dopo tanti anni insomma esse sono sei anni che ci occupiamo di doppiaggio portiamo i doppiatori di eventi diversi artisti del settore se sentono voci animate sanno che ci siamo io mia moglie e il nostro staff comunque abbiamo un staff all'evento non dico che possono andare quasi sul sicuro perché ancora su alcune cose non dipende da noi ma ma poco ci manca ecco quindi abbiamo raggiunto anche quella credibilità che volevamo raggiungere quando abbiamo deciso di creare questo gruppo e siamo contenti perché sta funzionando l'ultimo evento che abbiamo fatto è stato a montichiari al garda con qualche settimana fa c'è stata una affluenza nonostante green pass di tantissima gente 17 mila ingressi la platea abbiamo fatto due speciali il primo dedicato a cobra kai alla serie tv famosa di netflix e il secondo giorno della casa di carta e c'è stato un riscontro di pubblico incredibile c'erano le sale piene abbiamo fatto abbiamo avuto in cambio l'affetto del pubblico e anche io ospiti l'hanno avuto quindi è stato molto bello allora visto di subito ritorno pochino sull'ultimo libro ascoltare tanti doppiatori perché passiamo di doppi attore perché chiaramente la gente non comprende ancora che l'attore è un attore e poi fa anche il doppiatore raccontaci un pochino che cosa ti hanno raccontato di bello di interessanti di particolari qualcosa che neanche tutti aspettavi che ti dicessero e poi in realtà ti hanno raccontato e poi anche perché il doppiaggio è molto cambiato nel tempo assolutamente grazie che mi dà l'opportunità di parlarne perché ci tengo tantissimo questo libro come ripeto è il mio quinto libro ma primo ufficiale nel mercato editoriale quindi sono fiero di quello che abbiamo fatto perché all'interno del libro ci sono più di 40 artisti intervistati e per ognuno di essi c'è un qr code che inquadrandolo con la solita app che legge qr code riporta a un audio dove si può sentire appunto il doppiatore che saluta il lettore magari anche in certi casi imitando uno dei personaggi famosi che ha doppiato faccio un esempio c'è luca ward che dice una frase come il gladiatore quindi è molto carina ad ascoltare ci hanno raccontato tanti aneddoti una delle domande più comuni che abbiamo fatto ovviamente come stavano passando la quarantena perché questo libro è stato scritto mentre eravamo in quarantena ripeto nel male è stata una fortuna appunto perché erano tutti a casa quindi erano tutti molto disponibili hanno partecipato molto volentieri è cambiato anche perché sì una volta si si doppiava per esempio tutti insieme all'eggio 4 5 doppiatori tutti insieme dopo la pandemia soprattutto questa cosa è scomparsa si dice si doppia in colonna separata c'è ognuno doppia la propria colonna e solo tipo il secondo il terzo che la fortuna di avere l'aggancio dei colleghi che hanno già registrato in cuffia magari possono avere la sensazione vaga di averlo a fianco ma ma così non è e quindi manca proprio il contatto tra i tra i vari artisti è un'altra cosa brutta che è cambiata nel tempo in peggio e sono le tempistiche vengono richiesti dei tempi di doppiaggio che sono molto brevi prima per fare un film per intenderci ci mettevano tipo due mesi adesso ci mettono quattro giorni questa è la differenza tra l'ora e adesso e ovviamente i tempi brevi non tanto spesso perché i nostri doppiatori sono i migliori al mondo lo dicono anche gli attori di hollywood ma alcune volte ovviamente va a discapito della qualità del prodotto ricordiamoci che il doppiaggio è stato voluto proprio dalle major americane quindi da hollywood per far fruire i loro prodotti anche nel resto dell'europa di oltreoceano deciso di far doppiare i film nel linguaggio del paese in cui venivano venivano proiettati quindi non è una cosa italiana questo è e molti non lo sanno gli attori americani sono i primi comunque che non tutti però molti apprezzano chi ci fa fruire delle loro performance che a volte le performance di attori americani non sono proprio eccellenti e i nostri doppiatori mettono una toppa agli attori cani questa frase è stata detta a uno spettacolo di doppiaggio e sono assolutamente d'accordo sì no ma ricordiamo che jerry louis nella voce americana in realtà non non rendeva non perché il prodotto sia stato migliorato e che in italia la gente lo riconosce con una voce italiana poi in realtà molti io sono cresciuto che quando ho aperto la prima volta che ho visto un cartone animato ho detto ma goldrack parla in quel modo però ho capito che poi lo voletevo crescendo ho capito che non era il personaggio che jerry louis avesse quella voce in realtà non era la sua voce ma era chiaramente del nonno di monica ward jerry louis è un passaggio che si rende necessario perché anche per esempio una battuta fatta in americano l'umorismo americano come quello inglese non è l'umorismo italiano e spesso le battute in lingua originale si perdono perché una cosa che fa ridere l'americano che fa ridere un inglese l'italiano manco la capisce la battuta e quindi il lavoro che fa per esempio l'adattatore è quello di adattare anche una battuta per far ridere l'italiano no quella battuta che magari noi non avremmo capito in lingua originale viene trascritta in lingua italiana e magari sicuramente la scena viene migliorata dove il film per esempio la commedia deve richiamare la risata col doppiaggio italiano arriva se lo lasciassimo in lingua originale spesso non arriva gli atto il doppiatori gli attori che hanno partecipato tutto il libro volta letto che cosa ti hanno detto tu vuoi qualche scoop allora intanto per gli scoop che ci sono dentro libri ce ne sono tanti di aneddoti soltanto che volta che l'hanno letto e che commento ti hanno detto che l'hanno commento quello del libro ce l'andiamo a leggere però quando il doppiatore è aperto luca ward ha letto il suo pezzo ha detto ah sono io io sono orgoglioso di questo lavoro perché tutti i complimenti che abbiamo ricevuto arrivano dai diretti interessati e quindi questo è motivo di doppia soddisfazione oltre aver scritto il libro arrivano i complimenti da quelli che ci sono dentro il libro ne dico uno in particolare perché la mia cara amica io ci tengo particolarmente insomma domitila d'amico che è una delle doppiatrici presenti nel libro mi ha mandato un vocale stava leggendo proprio questo libro mi ha scritto anche che era contenta di leggere alcune chicche dei colleghi che ignorava quindi questo è stato molto bello ad esempio bene bene mi fa piacere andremo a cercare il libro anzi l'ordine sicuramente su tutte le piattaforme di vendita online di editoria feltrelli bs amazon e dappertutto lo trovate voci animate scritto da james garofalo fabrizio ponciroli e poi c'è anche il riferimento è lo piccolo spot lo potete trovare sul sito di voci animate posso dirlo sì penso certo www.voci animate www.voci animate.it allora noi ti salutiamo ci diamo appuntamento per le prossime volte perché grazie grazie per avermi invitato ci fa piacere sentirti perché ogni giorno per noi è un mondo diverso ogni volta sentire qualsiasi parte che ci racconta dal doppiaggio alla produzione a come si gestisce un ospite questo a noi ci fa piacere ci dà la modo di crescere perché soltanto parlando si cresce e non ci fai saluti saluto tutti gli ascoltatori e grazie per avermi invitato e seguite sempre voci animata ciao a tutti benissimo noi ringraziamo anche la signora della produzione tutto lo staff di voci animate e ci siamo dimenticati qualcosa lo staff di voci animate vi saluto tutti ma sul sito voci animate punto it nella pagina staff trovate tutti i nostri collaboratori sport piceno game presenta l'intervista di pietro il premio voci animate sport piceno game presenta l'intervista di pietro l'intervista di pietro l'intervista di pietro